Di che cosa è espressione? Di che cosa è espressione il pessimismo? Commento. Il pessimismo verso ciò che fanno gli altri e quindi verso la società in genere è uno degli innumerevoli aspetti attraverso cui si esprime il nostro io. Ma è proprio comportandoci così facendo vibrare i nostri gusci con quei codici con quei modi vibratori ancora dominati dall'io che noi dimostriamo di appartenere per elezione per affinità evolutiva e ancora stabilmente alla società che critichiamo. Se così non fosse saremmo capaci di non criticare e anzi di scovare ogni motivo per elogiare i nostri simili come fanno alcuni fratelli dello spazio.